Abbiamo fatto i 30 all'ora, dopodiché sono curioso da ex sindaco di capire come questo esperimento impatterà nella vita dei cittadini, perché sicuramente c'è un aspetto educativo e culturale di tentare di rendere più sicure le nostre città, dall'altro lato ovviamente modus est il regus, dipende da come lo fai e quindi sono molto molto curioso da ex sindaco di capire se funzionerà, ho sentito una cittadinanza su questi temi spaccata in due, come è fisiologico su scelte di questo genere, penso che tra qualche mese si potrà fare una prima valutazione mettendo in fila gli incidenti, mettendo in fila le multe, mettendo in fila la tempistica e la scorrevolezza del traffico, insomma non rispondo sull'onda dell'emozione come fanno in tanti, dico questa è una scelta che il sindaco ha fatto e adesso andiamo a vedere se funziona. Da qui a 3-6 mesi sarà tutto più chiaro.